In campagna è arrivata la tanto attesa pioggia di finanziamenti per gli eventi turistici e culturali. Sul Borco di Ieri, infatti, la Regione ha provveduto alla pubblicazione dell'elenco dei beneficiari dei finanziamenti della sezione Eventi di Rilevanza Nazionale e Internazionale. Per quanto riguarda l'Irpinia, tra i progetti finanziati ci sono il Comune di Summonte con il Festival Internazionale di Musica Etnica a Sentieni Mediterranei con Eventi in Abbazia, giunto alla ventunesima edizione che ha ottenuto la somma di 110.000 euro ed ancora 140.000 euro per il Comune di Calitri per la quarta edizione dello Sponsfest. 150.000 euro invece al Comune di Avellino per il Festival Internazionale del Cinema La Ceno d'Oro, giunto alla quarantunesima edizione. 100.000 euro ammonta invece il finanziamento per il progetto Illumina la Notte del Comune di San Martino, Valle Caudina. Teora invece ha avuto un finanziamento pari a 120.000 euro per Irpinia, madre contemporanea. Il Comune di Mirabelle e Clano, 130.000 euro per terra, grano, sapori nell'Irpinia della devozione. Ed ancora, leggendo la lista dei beneficiari, si evince che il Comune di Benevento, con il progetto del 37esimo Festival Benevento Città Spettacolo, ha ottenuto un finanziamento di 150.000 euro alla pari di Caserta per la Coppa d'Oro Città di Caserta, concorso ipico internazionale e di Napoli per il Piano City Napoli 2016. 16.